E' meglio prima? Ormai il Movimento 5 Stelle, sapete, se non c'è lo streaming non è legale, non si può, non c'è democrazia, facciamo una cosa carbonara tra di noi, ma non va bene. Bene, a un certo punto ho frequentato questo corso con questo docente e praticamente per quattro mesi, dalla mattina alla sera, tutti i giorni, da lunedì al sabato, traducevamo grandi scrittori, da Faulkner a Melville, uscendone tra l'altro distrutti, letteralmente distrutti. La traduzione, io entravo davanti in nesto piccole definizioni di traduzione come mi vengono questa abitudine di andare un po' a vanvera, per usare un termine efficace, e la traduzione è un confronto continuo che non si risolverà mai per tutta la vita, con un'altra penna. Non si impara a tradurre, non si arriva a un certo punto, ho imparato, ho finito, non è come ho imparato a fare il caffè al bar, tu prendi la macchinetta, fai questa cosa la devi fare e tanti altri mestieri, la traduzione non è così, è una continua palestra come il ring, tu ti puoi allenare quanto vuoi ed è giusto, fatti i muscoli, cioè imparare l'inglese, avere un'ottima conoscenza dell'italiano in cui devi rendere il testo, studiare il testo, puoi fare tutte queste cose, dopodiché ti siedi e incominci a tradurre, in quel momento tu sali, sali davvero, per usare un'immagine efficace, sul ring, e sul ring c'hai davanti a volte Chattanooga Chuk Chuk, uno scrittore americano che fa ridere, che traduci perché è l'unica cosa che ti hanno dato, a volte c'hai davanti William Faulkner, e quando sali con William Faulkner, avete veduto quelle scene di Rocky in cui cola il sangue, tagliami l'occhio, che è un po' così, c'è la sensazione di entrare su un territorio spaventoso, e quando guardi tutti quelli che ti hanno preceduto, come ha avuto 22 K.O., guardi tutte le altre traduzioni, Pavese, vedi tutti i loro lividi, i loro testi, le ammaccature, tutte le volte che sono stati ricoverati, non esci mai compiuto da questo lavoro, per questo è faticoso, per questo è un po' difficile. E là, in questa palestra che feci a Firenze, poi questo corso purtroppo è chiuso, sono mancati i finanziamenti per dieci anni, credo che si è andato avanti molti dei grandi traduttori, non io naturalmente, non lo dico per farmi un complimento, altri bravi traduttori sono passati attraverso queste docenze, e lì stavamo tutto il tempo a tradurre. Anche lì, è stata una palestra utile, ma questo laboratorio, naturalmente vi posso dare delle idee, ma per imparare a tradurre bisogna tradurre, non c'è altro modo, bisogna mettersi lì e farlo, e lo impari man mano. È un paradosso, naturalmente dici, ma se ho già cominciato come traduttore, sono già arrivato come traduttore, ho già scritto il mio nome, no, il primo libro sarà difficile, sarà un disastro, il secondo sarà un po' meglio, il terzo, e pian piano acquisti molto mestiere, comunque anche al ventesimo, al trento, io ho tradotto una sessantina di libri e ancora adesso a volte sbatto la testa, come avete presente quegli libri ortodossi al muro del pianto che sfiorano sempre il muro mentre pregano, ecco il traduttore fa un po' così però col computer, sfioro il display del computer sbattendo la testa perché trovi uno scrittore bravissimo, trovi uno scrittore straordinario, trovi uno scrittore difficile, che ti piace, a cui vuoi dare molto e quindi non acquisisci mai i ferri del mestiere fino in fondo. Quindi feci questo corso, dopodiché uscito da questa cosa tornai a correggere bozze, a fare revisione di traduzione, finché poi con le unghie e i denti non riuscì a strappare una prova di traduzione, che se arriverete a, forse alcuni di voi già sono all'interno del mondo editoriale, è una specie di tozzo di pane lanciato a questi cagnacci che stanno fuori dalla casa editrice perché rompi talmente le scatole, l'unico, vai dai tieni questa prova di traduzione che la maggior parte delle volte non viene né letta né esaminata, passano altri mesi, intanto tu continui a correggere il bozze di revisione di traduzione, intanto lavoravo in libreria, cosa molto utile, tra l'altro ti dà anche là un'attenzione verso che cos'è l'editoria, anche il lavoro in libreria non era sottovalutato. A un certo punto finalmente sono riuscito ad arrivare a una prova di traduzione che ha portato a un vago interessamento di un redattore, di un editor, finché, non so come, mi hanno dato da tradurre un testo e là ho cominciato. Tanto la prima volta che tu ti metti a tradurre un testo è panico abissale, perché davvero ti senti questa responsabilità di restituire in italiano una cosa che è scritta lì e quando cominci, dopo aver già fatto mille, io avevo lavorato su Nabokov, Faulkner, in questi laboratori, mi sentivo, traducevo poesie, poi parliamo anche di tradurre poesie che è un'altra cosa ancora, eccetera, invece all'improvviso traduci la cosa più semplice del mondo, io ho tradotto uno dei miei libri, primi libri, dove lo voglio ricordare con affetto, Memorie di una dominatrice teenager, non lo ricordate, è un caso, un libro di nicchia così, era una schifezza abissale e però anche lì naturalmente hai il terrore di sbagliare, il traduttore poi è un personaggio, dovrebbe esserlo secondo me, un po' sentimentale e ingenuo, un ingenuo e sentimentale amante, si chiamava grazie a tutti 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 no, l'ha ritradotto perché non era contenta non funzionava quando le cose non andavano più bene cambia la tua sensibilità di vista quindi è un lavoro meraviglioso con questa tortura che hai nei confronti del linguaggio che è naturalmente quella di capire come come aggiustarlo, come suona meglio perché poi non è per tanto ma per studiare l'italiano e l'inglese è una lingua in spagna quando mi vengono a dire qualcosa di traduttore la posizione in spagnolo sparisce in inglese una forma mentale completamente diversa cosa? raddoppiamo? non va bene? questo è terribile microfono ma dobbiamo farlo per lo streaming sempre Beppe va bene così sentivano no, va bene l'italiano è decisivo è fondamentale naturalmente il libro si dice spesso non deve suonare tradotto è un paradosso perché è tradotto non deve suonare tradotto quella è la pietra al collo di ogni traduttore tanto che poi si finisce con l'esagerare nel tradire l'originale a volte perché tu dici questo è un calco dall'inglese non parliamo dei soliti what's your name la cosa più banale gli esempi base che si fanno what's your name non si traduce qual è il tuo nome si traduce come ti chiami no? let's have a drink beviamoci qualcosa facciamoci un drink è un po' ridicolo sembrano quei vecchi film di Bogart ecco altra cosa se voi cominciate a tradurre tanto vi rovina per sempre la visione di qualsiasi film in italiano perché continuate ti indigni la persona accanto a te l'amorosa gli senti hanno detto soda soda perché in tutti i film americani voi vi dite ti va una soda è una bibita è una bibita certo poi c'è il discorso del doppiaggio quindi loro gli fa comodo soda perché segue il labiale per quanto non sono così sicuro ma soda in italiano non esiste e tu sei male continuamente tantissimi esempi vai a vedere Tarantino a vedere cose e dici no perché non parliamo dei fottuto anche lì che poi vanno a finire in italiano qui adesso ci sono scrittori italiani che questo fottuto romanzo non mi esce dalla penna ma chi ha mai detto questa parola chi ma ha mai detto questo cazzo di romanzo non mi esce dalla non si può eh ah è per lo streaming togliamo la parola romanzo facciamo questo beh vabbè la lingua la traduzione bisogna no ok allora non parliamo non parliamo degli scrittori parliamo di scrittori più più quando hanno tradotto gli ala in inglese hanno fatto un lavoro bellissimo non c'era neanche una parolaccia le parolacce sono un problema non le ripeterò ma le parolacce sono un gran problema pesanti a volte fortissime a volte connotate in modo dialettale a volte e poi creano queste strutture linguistiche che rimangono nell'italiano per cui ci sono gli scrittori italiani che leggono tantissimi scrittori americani tradotti in traduttorese per così dire e poi finiscono con lo scrivere così finiamo con il parlare così e quindi accade questo detto questo io vorrei darvi prima una serie di classificazioni di traduzioni come cioè come le varie fasi non le anche le varie fasi ma partendo dall'ottocento senza farvi una piccola storia di com'è una traduzione oggi cioè della varia casistica che c'è così almeno vi dico anche qualcosa di pratico perché se no vi sto rintronando di chiacchiere assurde alla base della traduzione dovrebbe esserci un libro originale e va bene qua siamo tutti d'accordo e tranquilli tre casi ci sono diciamo così a grandi linee le faccio figurati cioè magari qualche posto tre casi diciamo a grandi linee poi io non so che cosa sappiate voi di traduzione di editoria quindi vado così se voi dite no questo lo sappiamo salta non ci annoiare con questa cosa perché siamo estremamente familiari con questo problema comunque tre discorsi uno salterei i testi cinquecenteschi eccetera che poi vanno nell'editoria paraliversitaria ed è un discorso poi ancora più complicato ma diciamo parliamo prima di tutto i classici i classici vengono tradotti e ritradotti ancora oggi io sto facendo un classico che è il circolo Pickwick quando è che si fa un classico o perché non si è mai tradotto e succede non si è mai tradotto il libro minore poniamo ancora ogni tanto vanno a scovare i taccuini di viaggio di Dickens in quel determinato non sono ancora stati tradotti allora lo facciamo e quindi scelgono di tradurre un libro oppure il testo è già stato tradotto dei classici ci sono innumerevoli versioni attenzione le prime traduzioni dei classici sono spaventose naturalmente io ho una vecchissima cosa trovata su una bancarella il delitto e il castigo è un bel caso di traduzione la traduzione è un po' come il telefono senza fili comincia in un modo e poi va in un altro voi sapete che Dostoyevsky cita un libro in quel titolo italiano cioè dei delitti delle pene di beccaria che aveva letto e che gli interessava il castigo naturalmente lui scrive quel titolo è una citazione in italiano torna indietro ed è diventato delitto e castigo però non delitto e pena tanto delitto e castigo suona molto meglio quindi ha fatto bene tanto inizialmente si chiama Raskolnikov l'ispettore della censura il digli di non dire altre parolacce che sennò salta tutto non c'è problema finché non si va sulle cose sessuali sentimentali non mi dà fastidio se non sento ti chiamo dopo attacca tu i primi testi classici a volte vengono tradotti da un'altra lingua non quella originale Dostoyevsky viene tradotto dal francese in molti casi perché non c'erano i traduttori che conoscevano il russo c'erano poche persone che traducevano tradurre era una cosa strana e viene tradotto dal francese ora prima cosa la letteratura forte grande ce la fa anche con una cattiva traduzione dal francese ad arrivare secondo me oggi si traduce meglio che in qualsiasi altro periodo della storia perché abbiamo più strumenti perché ci siamo più consapevoli eccetera però la letteratura ce l'ha sempre fatta Dostoyevsky è riuscito ad arrivare una generazione di intellettuali italiani si è formata su dei libri tradotti malissimo spaventosamente buchi una volta facevano i riassunti dei brani omissioni tagli addirittura Steinbeck furore adesso è stato ritradotto da Bonpiani da Sergio Claudio Perroni che è un bravissimo traduttore per anni è rimasto in catalogo non solo con tutti gli errori ma addirittura con le censure i paragrafi censurati dalla censura fascista per anni in catalogo io ho letto furore che mi piacque tantissimo da ragazzo da ragazzo in una versione assolutamente distorta lontanissima dall'originale quindi la letteratura ce la fa certo non è l'originale non è la stessa cosa a piccola digressione sarebbe bellissimo fare una storia delle meccanismi come quella di Beccaria che diventa diritto e castigo eccetera dei termini dei testi che partono e girano e girano a furia di passata tra traduttori per esempio Lawrence Stern vita e opinione di Tristram Schend di Gentiluomo grandissimo libro comico stupendo viene tradotto in francese malissimo da uno scrittore minore al tempo non sto parlando e addirittura con dei riassunti ti fa delle cose assurde Pushkin però lo legge in quella versione francese gli piace tantissimo anzi lo cita qua e là nell'Oniegin ma la cosa divertente è che questa parola che si chiama Hobby Horse che era il cavalluccio questo signore questo scuro scribacchino francese non sa come tradurla non capisce cosa voglia dire e la traduce con Dada anni dopo Tristan Zara prende quella parola e la prendono lì e questa è una storia di un errore di traduzione che diventa qualcos'altro che cambia ed è divertente come passando di mano in mano si crea qualcosa di diverso naturalmente anche dalle zeppe dai terribili errori comunque testo originale testo originale in francese poniamo e viene tradotto così quindi magari è stato ritradotto negli anni 60 bene dall'originale però la traduzione è vecchia anche qua si crea un mucchio di problemi cioè quando un testo è quando una traduzione è invecchiata si crea dei problemi di storia della lingua non dell'editoria non della traduzione nel senso quando noi prendiamo un vecchio testo di Dostoievski e lo facciamo sembrare troppo moderno stiamo sbagliando naturalmente riprodurre un italiano ottocentesco per stare dietro al Dostoievski dell'Ottocento è impossibile e difficilissimo e poi forse non è giusto perché per esempio traducendo Dickens ci si accorge che la lingua inglese non è così invecchia non era così vecchia non senti la distanza degli anni rispetto a quando apri un libro di Roberto o di Verga dell'Ottocento italiano la distanza dall'inglese moderno è molto minore e quindi non ha senso infarcire il testo di arcaismi per rendere oddio è Dickens eccetera allo stesso tempo devi stare attento a non mettere i cosiddetti anacronismi non solo metterci dentro youtube ma metterci dentro delle parole che non esistevano in italiano in quel momento a meno che non sia invece una traduzione d'autore a quel punto a volte la traduzione d'autore può permettersi concedersi delle libertà che l'umile traduttore non può concedersi io sto sempre con l'umile traduttore per quanto scriva anch'io poi alla fine è difficile che i traduttori non scrivano hanno di solito però io sto con l'umile traduttore il grande autore prende un classico e lo rifà come gli pare poniamo Alice nel paese delle meraviglie Lewis Carroll ci sono tantissime versioni ce n'è una di Aldo Busi che è ancora in commercio credo nel Feltrinelli lui addirittura naturalmente in quel caso è un caso limite cioè lui dice il traduttore porta lustro al libro forse fa vendere anche qualche copia in più che non è un male attenzione marketing non è male vendere qualche copia in più di Alice nel paese delle meraviglie se lo traduce Busi bene divertente può essere una cosa bella qualcuno non l'ha mai letto magari qualcuno magari non lo legge appunto perché l'ha tradotto Busi però quello è un altro discorso lui dentro ci mette addirittura Mike Buongiorno a un certo punto non lui in persona se andate a leggere lo mette dentro il quiz con anche il nome di Mike Buongiorno perché c'è un punto dove c'è dentro un quiz è una forzatura è una cosa però è anche divertente e poi è Busi insomma tu sai che il testo di riferimento sarà un altro magari sarà quello dei classici garzanti però Busi ha dato questa sua versione che fa molto ridere però che può concedersi queste libertà quindi i classici a volte se vengono presi dal grande scrittore naturalmente c'è anche il grande classico tradotto dal grande scrittore invece umilmente la recherche è stata ritradotta integralmente in un'opera faticosissima in mane di Giovanni Raboni grande poeta con una sensibilità molto affine a Proust e lì per esempio c'è una traduzione alta ma allo stesso tempo fedele tra l'altro le traduzioni d'autore di Proust erano anche quelle farcite piene di errori piccola parentesi sugli errori gli errori nei libri ci sono sempre c'è una mia amica che per autoassolvere tutti qua se stessa che è traduttrice e anche tutti gli altri dice sempre non è una grande traduzione se non c'è a meno un grande errore questo perché si traduce un po' di corsa questo perché è difficile mantenere attenzione per 400 pagine su ogni dettaglio questo perché ci sono gli errori in originale a volte ci sono a volte il traduttore correggi non un errore linguistico non un errore lessicale grammaticale correggi un errore strutturale perché l'autore originale ha sbagliato a poniamo una persona prende il treno una volta dice una cosa una volta l'altra il numero del treno cambia e l'editor di partenza si è distratto nella storia della letteratura precedente all'esistenza dell'editor di colui che curava i testi siamo in presenza di quantità di errori spaventose nel circolo piqui Dickens sbaglia a un certo punto fa una cosa anacronistica che è avvenuta due anni dopo la mette nel testo tanto che c'è una nota di Dickens stesso per la seconda edizione che dice scusate ho sbagliato lo ammette candidamente di aver sbagliato come se ne mettessimo nel 94 la sterraggia sulla sonda sulla cometa della sonda c'è proprio un errore che in Balzac ci sono personaggi che spariscono muoiono e poi riappaiono perché testi di mille duemila pagine pieni di personaggi sono difficili da gestire è difficile da gestire ancora di più quando traduci e quindi gli errori capitano le zeppe ci sono secondo me vanno guardate con indulgenza naturalmente lo dico prodomomea ma insomma è il prodomo vostro perché poi un giorno magari traducete un testo e vi capita questo è il discorso sui classici c'è un testo classico da ritradurre ci sono delle opportunità editoriali naturalmente in questo caso io traduco il circolo Piquic perché in Audi non ha un'edizione del circolo Piquic non ce l'ha nel catalogo non c'è mai stata e quindi vogliono averlo in catalogo altre volte la traduzione è molto vecchia e quindi si ha voglia di darle una rinfrescata con molta attenzione naturalmente altre volte semplicemente il testo non è mai stato tradotto dipende dai casi cosa diversa invece per un testo novecentesco diciamo se parliamo di testo novecentesco moderno diciamo se parliamo di Hemingway entri in un territorio diverso cioè primo c'è la questione dei diritti molto spesso la gente sbraita perché non ritraducono tutto Hemingway perché è ancora dentro diritti e quindi ce l'ha un solo editore che non ha voglia di ritradurlo avete visto di recente uscire fuori dai diritti avete visto all'improvviso adesso anticipo faccio spoiler sull'intervento pomeridiano avete visto all'improvviso uscire 60 edizioni di Il Grande Gatsby ma cosa è successo come mai hanno riscoperto semplicemente perché è uscito dai diritti e quindi gli editori hanno detto io voglio una mia bella nuova traduzione perché la vecchia traduzione di Fernanda Pivano aveva un sacco di difetti e anche di errori e non c'è problema dirlo non è che violiamo un mostro sacro la Pivano ha fatto un lavoro straordinario di traghettamento di scouting come si dice oggi scoperta andava a trovare gli scrittori li traduceva li recensiva una specie di turbina che tirava via tutti anche un po' indiscriminatamente a volte secondo me ma insomma ha portato davvero metà della letteratura americana che abbiamo amato in Italia detto questo quel libro era da ritradurre e quindi qui presente Tommaso Pincio ha ritradotto per Minimum Fax Hemingway è ancora nei diritti e non viene ritradotto ma verrà sicuramente ritradotto sono edizioni piene di problemi di errori a volte mancano dei brani a volte c'è il riassunto c'è il riassunto del paragrafo come l'edizione per bambini a volte c'è una bella ottima traduzione non sempre è così piccola parentesi bisogna sempre avere indulgenza verso chi ha tradotto negli anni 40 e 50 è vero che le traduzioni di Pavese e Vittorini sono piene di svarioni ma non avevano San Google non avevano 100 dizionari che abbiamo noi di slang adesso è davvero molto più facile capire puoi tradurre un altro discorso capire però è più facile una volta non sapevamo da che parte cominciare dovevi scrivere negli Stati Uniti fare una telefonata era impossibile scrivere ci mettevi anni adesso abbiamo la mail scrivi all'autore a volte non rispondono perché sono sono degli stronzi delle brutte persone però puoi scrivere all'autore e dirgli cosa hai scritto qua perché io non capisco che cos'è questa cosa qua perché a volte succede di trovarsi davanti a una parola che non esiste da nessuna parte perché hai messo questa parola come mi raccontava il traduttore di grande scrittore Thomas Pynchon scrittore poi con una lingua barocca difficilissima prego con una lingua difficilissima che a un certo punto in questo libro che si chiama Mason and Dixon che tra l'altro è molto bello lui mette in questa città le orange girls allora il traduttore mi ha detto sai io orange girls ho detto che cosa sono queste orange girls certo è facilissimo orange girls tutti sappiamo che cosa vuol dire orange e cosa vuol dire girl però lui non capiva che cosa fossero che cosa facessero perché non si capiva dal testo manda il fax sei rimasto appassionato vero manda il fax a Thomas Pynchon pazzesco entrano e così manda il fax a Thomas Pynchon e Thomas Pynchon risponde erano le ragazze che vendevano le arance perché questa è la storia della traduzione cioè nel picco naturalmente voi moltiplicate dal cubo e piangete però è così cioè le orange girls erano semplicemente le ragazze che vendevano le arance ma perché non hai scritto in un modo diverso ma mi è venuto così mi è venuto in questo modo e questo naturalmente quindi noi possiamo scrivere all'autore abbiamo questi dizionari di slang meravigliosi alcuni tra l'altro quasi da leggere perché lo slang americano e inglese è meraviglioso il turpiloquio l'ampiezza di turpiloquio è fantastica e tra l'altro pone molti problemi a noi traduttori in italiano perché a volte cosa succede quando c'è un eccesso di turpiloquio tra l'irlandese che va negli Stati Uniti l'irlandese va negli Stati Uniti e fa sentire la propria differenza linguistica col turpiloquio nella narrativa cioè lo scrittore lo fa imprecare in irlandese in modo da far sentire la sua differenza a tutti quelli che ha intorno in quel momento nella scena ambientata nel diner a New York poniamo tu come fai in italiano a restituire questa cosa hai due strade innanzitutto hai la strada del dialetto che è rischiosissima ardita che qualcuno ha provato a usare e a volte ha funzionato in uno dei libri in uno dei long seller editoriali degli ultimi vent'anni che ha venduto di più le ceneri di Angela non so se l'avete letto di Frank McCourt Claudia Valeria Letizia la traduttrice ha scelto di dare molto di puntare molto sul romanesco ci sono molti ragazzi cose così era una scelta ardita che secondo me ha pagato bene e secondo me ha funzionato però è difficile ci sarà sempre qualcuno oggi poi che ci abbiamo in social network ci sarà sempre qualcuno suonobi questo demente ha fatto ha messo ragazzi ma pensa a te se uno a Cork può parlare dicendo ragazzi no certo che non può parlare dicendo ragazzi è una scelta la traduzione è un compromesso sempre continuo tra te e il testo tra il lettore e il testo tra l'autore e il traduttore insomma è un continuo una specie di come la lotta greco-romana continua a divincolarti e poi a riabbracciarti a divincolarti e poi a riabbracciarti molto più che la box è proprio questa cosa di stare continuamente a contatto col testo e cercare di risolvere i problemi una scrittrice in un libro che però non ho letto me l'hanno detto pubblicato da Inaudi ha tradotto siccome c'era tutta una parte ambientata in questa isola dove parlava lui l'ha messo tutto in abruzzese e non so come sia venuto anche quella scelta difficile quindi il tuo più occhio americano è fantastico e loro non avevano i nostri dizionari poveri Cesare Pavese e poveri Vittorini adesso è facile un po' ridere di loro tra l'altro io ho studiato anche un po' le traduzioni di Pavese di Melville sono pieni di difetti è vero però sono pieni anche di soluzioni felici e belle e che fanno inchinare alla sua sensibilità linguistica questo quando si parla di un libro moderno a volte il libro moderno non è mai stato tradotto a volte esistono libri che o sono stati tradotti e non hanno trovato successo non hanno incrociato il momento giusto succede Stoner Caso Editoriale di Fazzi incredibile era un libro di quando degli anni non so se 70-60 una cosa così forse qualcuno lo sa meglio di me ma comunque era un libro che era rimasto lì dormiente come le cellule terroristiche che dicono dormiente non Slipper era rimasto dormiente e a un certo punto qualcuno l'ha riscoperto e riemerge come viene tradotto per la prima volta in quel caso e quindi a volte il libro è stato tradotto e semplicemente è caduto nel vuoto caso emblematico di storia editoriale tra l'altro tragica John Kennedy Tool non so se l'avete mai letto una banda di idioti libro che lui non riuscì a pubblicare in vita morì e la madre era così ostinata così corciuta che cominciò a rompere le scatole a questo editor dicendogli mio figlio ha scritto un capolavoro finché un giorno questo qua si mette lì e lo legge e lo legge e dice cavolo è davvero un grande libro e lo pubblica e ha un grande successo eccetera in Italia viene tradotto da longanesi col titolo una confederazione di cioè non mi ricordo una confederazione di sciocchi una cosa così e com'è? no quella è la ritraduzione prima viene tradotto da longanesi con un titolo diverso il titolo dato viene da una citazione da Jonathan Swift e il libro non funziona quella traduzione probabilmente era buona non lo so però il libro non funziona e quindi Marcosi Marcos invece lo ritrova lo rispolvera lo ritraduce cambia il titolo con una banda di idioti che suona molto meglio fa mettere una prefazione o un blurb da Stefano Benni e il libro esplode anche lì la traduzione è anche la storia dell'editoria cioè ci sono libri che hanno bisogno di un piccolo sponsor all'improvviso succede qualcosa non ce l'hanno non succede niente è un mistero poi veramente l'editoria è un inferno perché è imperscrutabile se tutti avessero la formula magica per capire quando un libro vende a meno che non fai il marketing violento di certi editori non marketing quello della pubblicità non c'è niente di male ma proprio quello delle copertine tutto uguali nei supermercati con i titoli tutti uguali che si ripetono l'uno con l'altro quello è un altro modo ma capire come può un titolo un libro come Stoner storia di un'anima ingenua e tutto sommato un po' ottusa che è scritto in modo piano come era possibile prevedere il successo di quel libro resta un mistero e quindi John Kennedy Tool viene ripubblicato con una nuova traduzione e all'improvviso esplode quindi quando affrontiamo un testo moderno degli anni 50 60 70 a volte lo ritraduciamo e funziona a volte lo ritraduce e non funziona altra cosa a volte c'è bisogno come che il libro cambi identità per esempio Conrad è da anni nei Tascabili Mondadori è lì che a volte i classici finiscono un po' nella polvere della libreria nessuno ha più voglia di leggere sì grande Conrad però non lo leggi ah certo la linea d'ombra magari l'hai letto quando avevi 16 anni ti dimentichi un po' adesso per esempio Adelphi sta cercando di ripubblicare un po' Conrad dico Adelphi io non lavoro per loro però mentre ero in aereo ho riletto due racconti di Conrad appena pubblicati una fan posta del progresso e dargli una patina nuova una copertina diversa ritradurlo può aiutare il classico a riemergere questo quando si parla di libri del passato quando si parla di libri presenti è un po' più complesso no non è tanto più complesso insomma il libro voi sapete l'iter del libro non so che sembra banale raccontarlo ma siccome ogni tanto poi qualcuno mi chiede ma chi è che decide i libri di successo che è bellissimo perché presuppone che ci sia qualcuno che li decide non ma è vero che qualcuno c'è qualcuno che decide questa cosa no non c'è nessuno il libro viene i libri arrivano nei casi editrici e vengono letti in inglese io parlo sempre di cose che poi vengono tradotte non parlo delle cose italiane non entriamo là perché Dio ce ne scampi ho detto Dio le cose inglesi quando arriva arriva un testo da un agente o da un editore o da un scout i scout sono quelli che vanno a cercare i testi adesso esistono sempre meno una volta avevi la gente al New York nel senso il nostro agente a Lavana un uomo a New York che trovava testi adesso ci sono talmente tanti agenti che i testi arrivano non vai neanche più a chiedere non vai neanche più alla porta perché ti arrivano come una sassata dalla finestra continuamente non avete idea della quantità di testi che arrivano e c'è una figura oscura misteriosa e forse più infelice del traduttore che è il lettore che io ho fatto tanto e il lettore legge il libro c'è davvero qualcuno che legge non è che i libri vengono scelti così facciamolo magari a volte sembra perché il libro è brutto magari non piace a te non è che anche questa cosa è brutto perché l'hanno pubblicato ma magari a te non dice niente insomma calma perché c'è poi questo grillismo editoriale quella è una schifezza che l'hanno pubblicato capito non so parliamo dimmi perché è una schifezza intanto comincia ad argomentare comunque il libro arriva e viene letto e magari ti arriva senza niente una sinossi un titolo ne parlavo ieri senza non hai la copertina non sai neanche che cos'è non sai niente bellissimo perché il libro è proprio nudo cioè è come guardare un quadro senza il quadro noi siamo terribilmente come resi ottusi cioè da ciò che circonda l'arte quando andate in un museo vedete più gente che legge il cartellino di quanto ci sia gente che guarda il quadro tutti a consultare l'audio guida invece la cosa bella io farei togli tutte le audio guida siediti lì davanti e adesso parlami del quadro raccontami cosa c'è in questo quadro cioè è quello che dovrebbe e così con i testi letterari invece noi vediamo c'è la copertina il risvolto la quarta di copertina quello che c'è scritto il risvolto il blurb Nicolò Ammaniti scritto è un libro capolavoro tu lo compi e dici l'ha detto lui cioè ti fidi e già questo indirizza molto la copertina l'editore ti dice moltissimo di un libro oggi sempre meno magari ma i pareri degli amici i pareri dei social network quello che hai sentito in giro il libraio l'immagine scelta per la copertina tutto ti prefigura una tua idea che poi naturalmente andrà verificata sul testo con il testo quando fai il lettore la cosa bellissima è che ti arriva un libro nudo e crudo non sai niente a volte ma a volte non c'è nemmeno il titolo ti arriva un pacco un pdf e dici leggimi questa cosa qua e tu cominci a leggere bellissimo cioè insomma anche faticoso perché leggere è anche faticoso se devi leggere un libro in tre ore c'è la fiera di francoforte il tuo il redattore ti manda gli sms dicendo dimmi com'è dimmi com'è dimmi com'è c'è l'asta ecco che diventa un po' più complicato soprattutto se hai che fare con un bel libro e dici sì ma capito sto leggendo hai il nuovo underworld ho tre ore per leggere 800 pagine non posso dirtelo esattamente ti posso dire le prime 100 pagine una serie di le prime 100 pagine come sono insomma è un lavoro a quel punto il libro tu dai un parere ed è una tra l'altro nelle letture di solito c'è la verità vera magari nelle recensioni è un po' più ammorbidita ma nelle letture se tu andate a leggere i pareri editoriali che sono stati pubblicati poi di grandi scrittori leggete cosa pensavano di grandi classici e lì leggi veramente cosa pensavano perché poi quando recensisci magari c'è un livello di sofisticazione diciamo diverso a quel punto e tu devi è bello la lettura perché non c'è il forse non c'è il ma c'è il sì o il no cioè non puoi dire il ni il ni è il rifugio delle canaglie in editoria nel mondo dei lettori perché tu metti soltanto ho capito ma secondo te questo libro è da fare o no ed è molto difficile decidere è facile quando tu compri il libro e dici sì ma questa è una schifezza perché l'hanno fatta ma quando tu stai leggendo e a volte dici questo libro sia un grande valore cioè è pura dei difetti e poi devi bilanciarlo nella storia della letteratura di quel paese perché devi pensare ma questo libro è una storia che ruolo ha nella storia dell'editoria tua nella storia del catalogo dell'editore e anche nel mercato perché devi dire ma questo libro vende qualcosa o no oppure un libro di prestigio che facciamo e vende 300 copie e boom che poi è sempre tristissimo comunque non è per nulla facile decidere sì o no di un libro provate a immaginarci e infatti l'editoria e la storia è piena di no a libri anche importantissimi di persone che non hanno trovato il coraggio il primo che legge la prima parte della research questo poveretto che ha passato la storia solo per quello dice 10 pagine per dire che uno deve addormentarsi è rimasta la storia soltanto per questa infelice frase ma poveretto un po' io lo capisco così come capisco i problemi con l'Ulisse di Joyce testi così creano uno scompiglio tale che gli editori hanno dei problemi a crederci non credo che oggi Joyce non troverebbe editori io credo che lo troverebbe farebbe ugualmente fatica fai fatica a imporre un testo così come ha fatto fatica Antonio Moresco a imporre degli altri testi o a tanti altri scrittori che sono anche morti inediti come Morselli un caso terribile quindi a quel punto il testo viene letto da altre persone non c'è una sola che decide perché sennò sarebbe viene letto da 4-5 persone a volte due semplicemente due no fanno un libro si ferma magari un altro dice no questo è un libro importante e quindi si riapre il discorso a volte ci vogliono 5 anni per decidere se pubblicare o no un libro se non l'ha comprato già qualcuno perché oggi c'è sempre questo perdifica a quel punto quando l'editor decide per il sì a quel punto si pone la questione del traduttore e lì a volte può coincidere anche con il lettore te ne sei innamorato così tanto l'hai capito che forse è nelle tue corde ma non è facile capire per chi è un libro ci sono traduttori che si trovano benissimo con libri di slang e traduttori che si trovano bene con libri con una scrittura più alta c'è proprio una questione di tuo bagaglio lessicale di tuo culturale e che è molto difficile da capire anche su se stessi tanto che ci sono scrittori che all'inizio vengono tradotti il caso Irvin Welsh scrittore scozzese train spotting avete presente quello scrittore lì in Italia non all'inizio nessuno lo compra perché lui non sempre perché ha scritto anche libri diversi ma per un certo periodo scriveva in questo scottish english per definirlo in tono alto ma in realtà scriveva a volte riproduceva la parlata fonetica dello scozzese dei bassifondi del pub e delle droghe e degli hooligan eccetera se voi andate a trovare i primi libri di Welsh in inglese non capite letteralmente perché lui scrive come si pronuncia sostanzialmente per metterla in modo più brutale e quindi tutti gli editori dicevano questo è famoso è intraducibile che è un po' un alibi io non credo che esistano scrittori intraducibili però perché noi abbiamo un'estensione linguistica straordinaria l'italiano è una lingua meravigliosa all'inizio lo fanno tradurre qualcuno e non funziona non va poi lui esplode per il conto suo perché fanno il film e poi trovano di nuovo scusate se nominano sempre gli stessi ma è un caso il traduttore che poi lo stesso dipinci che è Bocchiola Bocchiola cosa fa? lui dice questo qua scrive in una lingua non riproducibile mi devo inventare una specie di dioletto italiano una specie di nuovo gergo italiano e quindi se lo inventa e quindi Bocchiola per esempio fa questa cosa opinabilissima che gli ha tirato un sacco di critica ma quello che lui chiama polis che lo scrive come si pronuncia in inglese lui lo scrive in italiano anche così come polis diciamo una città con l'accento sulla i polis tu in italiano arriva la polis e tra l'altro in gergo italiano anche si usa a volte ce ne sono tanti altri modi però forse un traduttore un po' più piccolo avrebbe detto arriva la madama che era il vecchio però chi dice più oggi nel mondo nel gergo criminale arriva la madama io credo che se fai il palo tu dici arriva la madama non scappa nessuno perché non lo capiscono è una cosa sapete poi si chiama madama lo sapete perché è palazzo madama è bellissimo come è e anche questo è un problema i gerghi invecchiano il tuo gergo il tuo gergo l'altro problema è che devi continuamente trovare consulenti a ambiti per esempio l'ambito gergale non è che tutti conoscono i criminali com'è che dite voi polizia io mi ricordo da ragazzo c'è il dizionario c'è un libro stupendo che si chiama Scrostati Gaggio che sembra un titolo spaventoso ma è un dizionario della UTET meraviglioso dei gerghi giovanili c'è tutto io mi ricordo che l'ho comprato perché ero lì e ho guardato adesso voglio vedere se c'è scritto termine che usava nella piazzetta sotto casa uno di quei ragazzi che fumavano 120 canne al giorno lui aveva il cilum così detto e allora quando scusate sembra una cosa è cultura anche questa quando lui lo puliva usava un fazzoletto che lui chiamava fazzollo se c'è quel termine lì lo compro ho detto fazzollo termine gergale lombarda che vuol dire era usato da tanti e io lo userei se traducessi Welsh fazzollo bellissimo però non è che hai sempre perdi il contatto con la piazzetta con l'età per fortuna anche per certi versi e poi è sempre più difficile stare al passo altro problema senza arrivare sul gergo che comunque arriva la madama appunto è un caso di anacronismo perché dici ma vabbè ma chi lo dice più andiamo invece dai da tradurre un thriller medico medical thriller scusa in italiano si dice che bello mi hanno dato un bel thriller mondadori che vende tanto anche se poi non guadagni di più perché sapete i traduttori italiani non hanno una percentuale sulle vendite però dice è un bel thriller per mondadori inferno pagine e pagine in ambulanza pagine e pagine di termini che non hai mai sentito che non si trovano sul dizionario per il quale devi andare tutti i giorni in biblioteca e consultare il dizionario medico oppure chiedere all'improvviso torni indietro un vecchio amico che è diventato medico senti ma allora chiederti io mi ricordo che ho fatto una prova di traduzione tanti anni fa alcune cose non riusci a trovarle birretta con l'amica medico senti allora devi dirmi questo 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 se finisci in fabbrica e non sei stato in fabbrica idem se finisci che ne so anche nel mondo del surf hanno dei loro maledetti gerghi dei loro fottuti gerghi scusa era un calco hanno anche là delle cose infernali perché usano il grasso di fuoco non lo so cosa però dici cos'è e perché la tavola è definita così e perché è fatta così perché dov'è questa pinna devi guardare una tavola da surf tu non vedi mai quello che ha visto lo scrittore perché tu stai seduto la tua tavola all'improvviso ti trovi davanti una pagina mentre tu mentre lo scrittore una volta mi è capitato di tradurre una descrizione di una motocicletta e grazie a google ho visto la motocicletta perché se no era un inferno dov'è il cilindro esattamente perché lui l'ha descritto vedendola e quindi ha dato per scontato delle cose non tutti poi sono straordinari che capisci tutto a volte ci sono delle cose ambigue nella traduzione e allora tu oggi la vedi grazie a Brin e Page a San Google però se no non l'avresti e là ti sei veramente e allora va di nuovo telefonata ma tu cosa ti mando questa pagina via mail tu cosa vedi là cioè dov'è questo cilindro secondo te terrore dov'è ancora quando facevo Faulkner c'era una pagina di quel libro meraviglioso che si chiama mentre morivo e c'era una parola che era spring che non si capiva se volesse dire molla o fonte non si capiva dal contesto vi giuro anche dentro Faulkner tanto che anche il mio professore diceva non lo capisco chiamiamo il traduttore che non mi ricordo quale delle due aveva scelte il traduttore è stato come chiamare sei l'amico lontano sì sono impazzito su quel passaggio e anch'io non ho capito alla fine che era Mario Materazzi il più grande traduttore di Faulkner in italiano questo per dire che è molto difficile e hai continuamente ambiti ambiti figure prego quindi continuamente ti si pongono problemi di questo tipo non soltanto sul tu non vedi quello che lui ha visto adesso volevo dire un'altra cosa ma mi si è inceppata la testa e e quindi ti trovi semplicemente a disagio rispetto a quello che lui ha descritto ecco ecco cosa volevo dire la traduzione ha bisogno di una lingua d'arrivo che deve essere la tua secondo me cioè i traduttori bilingui bilingue bilingue fanno fatica abbastanza a tradurre storicamente perché questa cosa è assurda cioè tu sei perfettamente gli Stati Uniti l'inglese americano l'inglese perché tua madre o sei cresciuto e sai perfettamente l'italiano perché sei cresciuto invece in Italia entrambe le lingue perfettamente no? le padroneggi sono tue tanto che anche spesso parlano male a volte cioè io ho un'amica che aveva perfetta padronanza dell'inglese e dell'italiano e diceva andiamo al cinema o qualcosa in italiano che è un tipico calco or something si dice lo trovate nei film purtroppo dicono o qualcosa è un classico calco dalla terminologia americana che si fa ti va a un cinema non so o qualcosa altro non so adesso lei lo diceva perché non lo traduceva bene e a volte non sentono le ambiguità che ci sono il filtro come tra l'originale e l'italiano tanto che a volte noi non li sentiamo per noi Moravia è una scrittura molto semplice ma insomma piana diciamo non è gab ok semplifico un po' però un traduttore basco scusate sembrano per quelle cose sembrano un traduttore basco di Moravia era impazzito catalano non mi ricordo era impazzito perché diceva ma questa chiedeva a un italiano ma questa cosa questa cosa che esce dall'acqua questa donna che esce dall'acqua l'acqua esattamente non si capisce lui diceva ma si è chiarissimo lui dice no perché secondo me è un po' più si creano delle piccole come incrostazioni che tu continuamente devi grattare via e riformare in italiano e che uno che ha madrelingua inglese non sente più a volte a volte si sente molto difficile c'è una poesia di Milo De Angelis che adesso vado un po' a memoria ma che dice bene è uno dei tanti paradossi perché la traduzione è un po' un paradossi se mi levi quel che non ho non mi rimane niente ecco la traduzione è un po' così secondo me sembra un indovinello un rebus cioè se mi levi quel che non ho non mi rimane niente vi lascio questa immagine così di notte alle 4 del mattino se mi levi quel che non ho questo nel caso dei libri attenzione poi una volta che il libro altro caso Raymond Carver oltre a Welsh Raymond Carver viene tradotto per la prima volta in Italia non da Minimum Fax che però viene tradotto da Garzanti e da Mondadori traduttori diversi chiedo che non so esattamente quanto abbia venduto allora non è questo che mi interessa poi Minimum Fax lo acquistano ormai leggendario acquisto di Carver da parte di Minimum Fax ve lo racconterà sicuramente Marco Cassini meglio di me e fa l'uniforma però questo è un altro caso in cui non c'era il problema del traduttore come con Welsh che non trovavano un bravo traduttore cioè uno che riuscisse che avesse quella sensibilità giusta per Welsh però in questo caso era disperso lo danno tutto in mano a Riccardo Duranti che lo ritraduce tutto uniform edition cosiddetta cioè con un unico layout di copertina un unico artista che era io non so tu se lo sai ma mi ricordo più chi che faceva queste illustrazioni era un altro cioè questi bambini e fanno un'edizione e Carver torna prepotentemente sul mercato editoriale italiano con questa tra l'altro questa nuova forza indie diciamo perché Minimum Fax era un editore piccolo che poi cresce con Carver sempre di più era un piccolo piccolo medio forse insomma e trova una nuova identità una nuova forza con un nuovo traduttore ed è un caso anche quello tipico Philip Roth è stato tradotto negli anni 80 70 pubblicato soprattutto da Bonpiani e a un certo punto c'è la rinascita cosiddetta la fioritura la tarda fioritura del grande Roth cioè il teatro di Sabat ancora esce con Mondadori e poi in Audi acquista tutto lo scrittore succede queste cose un editore acquista tutto il pacchetto diciamo e dice lo ritraduciamo perché vogliamo farlo meglio a volte la traduzione è fuori diritti perché era vecchia la traduzione dura vent'anni la traduzione è tua se qualcuno vuole ripubblicarla ottenere l'intascabile deve pagarti dopo dopo i vent'anni la traduzione non è più non è più tua però a volte dopo vent'anni la traduzione è brutta non funziona più allora l'editore vuole ritradurlo con Roth per esempio hanno trovato Vincenzo Mantovani storico grandissimo traduttore americano che si è trovato in una sintonia meravigliosa con Roth ecco quelli sono i matrimoni che a un certo punto dici che danno il massimo come Franco Salvatorelli con con Somerset Moan ci sono dei libri a Delfi di Somerset Moan anche là a Delfi ricompra tutto Somerset Moan perché era un scrittore già di successo eccetera lo ripubblica tutto lo ritraduce lo rivende a prezzo pieno e trova la perfezione con il traduttore Salvatorelli che l'ha ridato proprio senti che c'è un matrimonio lì proprio le le corrispondenze insomma le le comunanze di sensi di affetti e funziona straordinariamente così allo stesso modo con Roth in cui Mantovani veramente i primi 4-5 libri di Roth che ritraduce li fa in modo meraviglioso nel resta fuori il lamento di pornoi che era stato tradotto più di recente e poi si affianca un nuovo traduttore perché Mantovani semplicemente credo che non riuscisse a star dietro a tutte le ritraduzioni di Roth che è Norman Gobetti che è molto bravo e quindi ci sono diversi casi di ritraduzioni traduzioni e torniamo al discorso invece dell'itinerario del libro quando la traduzione è finita tu sei stato solo due tre mesi cinque mesi un anno con il tuo libro a un certo punto puntuale come il fisco arriva la mail del redattore che ha una cosa in bacheca con scritto chiama Marco e dice hai finito la traduzione? sì è un po' tra l'altro gli ultimi giorni di traduzione sono un po' come quando facevi gli esami all'università prima indurgi perdi un po' di tempo poi incominci sempre di più lavorare poi a un certo punto sei ossessionato delle virgole rimettere a posto attenzione poi quando non abbiamo il tempo di fare un laboratorio comunque una del fondamentale è non smarrire mai il testo originale cioè a un certo punto devi portare la lingua in italiano devi sentire però non dimenticarlo mai perché a un certo punto a furia di cambiare la tua traduzione perdi il senso e cambi il senso a me è capitato in un caso non voglio neanche ricordarlo perché per me è stato a un certo punto ho perso in un aforisma proprio tra l'altro che era pure un titolo di un capitolo e mi sono staccato troppo e poi per mesi quando l'ho visto no come ho potuto e ho ho letteralmente alterato il senso dell'originale e qua arriviamo al momento in cui consegni però il testo dovrebbe esserci il revisore di traduzione che quella volta con me dormì infatti non voglio non volevo giustificare me stesso ma insomma a quel punto la traduzione arriva e viene data un revisore di traduzione un altro lavoro di quelli belli faticosi perché è un po' monotono devi metterti lì col testo originale l'italiano e la penna arcangelo si chiama così a quel punto questo signore che rivede le traduzioni ci sono tantissime figure è molto probabile che se voi comincerete a lavorare in editoria e chiederete di tradurre o di lavorare vi daranno prima una revisione di traduzione anche per vedere come ve la cavate è un lavoro difficile quello del revisore che deve primo trovare i tuoi errori che ci sono ti distrai sono le 6 le 7 di sera è mezzanotte stai rivedendo l'ultima pagina ti squilla il telefono sei stanco hai voglia di berti un tè vuoi uscire eccetera e fai un errore l'errore rimane ti sfugge rimane lì quello deve beccarlo il revisore di traduzione a volte ci sono dei buchi perché tu mentre traduci salti due righe e poi le risalti di nuovo ci sono fior fior io l'ho trovata adesso non dico chi perché poi non è carino nei confronti del traduttore non per omertà però insomma succede trovi mi è successo per esempio con un testo che avevo letto bene in inglese perché era uno scrittore su cui avevo fatto la tesi e quindi conoscevo molto ci sono andato a controllare mi mancava qualcosa e mancavano tre righe tre righe divorate finite in un buco nero perché succede la il revisore deve trovarle quelle cose lì doveva trovare il mio errore sul titolo di quel capitolo quello io ho sbagliato ma lui doveva è la tua rete di sicurezza come il come si chiama il trapezista il tuo revisore è quello che primo secondo se è possibile vedere come funziona se il testo tiene trovare soluzioni migliori faccio esempi pratici terra a terra perché poi la traduzione è la traduzione è prassi poi c'è la teoria bellissima leggete i libri di Benjamin i saggi di Benjamin sulla traduzione leggete tante voci del testo l'uomo invisibile tutti quelli là sono interessanti sono bellissimi libri ma la traduzione è prassi pratica cioè non c'è nient'altro la teoria sì è bella però è parlare invece quando sei lì io mi ricordo che stavo rivedendo una traduzione di un libro di Lawrence di H. Lawrence quello di figli amanti e c'era questa frase il marito era un marito che scontentava sua moglie tanto per cambiare in Lawrence cioè la vessava vessava era anche un bel testo e lui dice in inglese he downed her down come down downed her e mi ricordo che il traduttore la atterrava che sembrava una roba di rugby cioè la placcava io tante altre volte ho fatto anche io la atterrava per sbaglio cioè nel senso non voglio dire che sia meglio di quel signore lì che era un bravissimo traduttore però evidentemente non gli veniva anche là faccio un piccolo discorso economico il traduttore non è pagato tantissimo c'è una bella forbice i grandi traduttori vengono pagati in un modo i quelli alle prime armi in un altro è un lavoro dove il crumiraggio c'è sempre qualcuno disposto ad accettare di lavorare per meno quasi sempre perché tu rifiuti ma c'è quello appena uscito dall'università che dice beh è una bella occasione per me tradurre un libro magari vivere i suoi ancora dice anche se mi pagano poco intanto ho tradotto un libro e ha ragione non bisognerebbe accettare sotto un certo dot perché è uno schiavismo però vabbè comunque perché ho detto questo ah ecco tu hai poco comunque vieni pagato a cartella sostanzialmente a cartella sapete cos'è una cartella 2000 battute diciamo una pagina per 2000 battute sono tutte quelle che segna sul computer tu vieni pagato a cartella se tu perdi un'ora su una frase hai pezzo di soldi brutalmente so che dovrei parlare di Benjamin però invece la traduzione è anche questa quindi quando lui aveva era là con il marito he downed her lui evidentemente si è rimasto un po' poi ha detto si dai l'atterrava nel senso dai un po' e poi mettemmo la prostrava che era bellino secondo me prostrava perché proprio la prostra perché lui era una molestia psicologica che faceva anche vessava forse non era male però il concetto è un po' diverso la traduzione è questa cosa qua continuare a girare intorno a un termine a dire ma forse questa cosa era meglio forse questa cosa è esattamente quella cosa quindi io quando feci questa proposta e cambiarono la parola ovviamente anche il revisore non è che si può stare a tutte le parole e trovare le cose che non funzionano deve comunque indirizzare il testo quando vi capitano di tradurre troverete anche dei revisori troppo invadenti esistono anche quelli così come esistono traduttori troppo liberi tutti hanno dei difetti la traduzione è anche un lavoro di gruppo per questo la casa editrice secondo me deve stare vicino al traduttore con i revisori con i correttori di bozza perché poi la firma lui poi appunto se una traduzione manca un paragrafo così del secondo capitolo dicono ma guarda questo imbecille che ha dimenticato il paragrafo del secondo capitolo ma la casa editrice deve stare vicino al traduttore in questa cosa qua vi capitano revisori che intervengono tanto per farsi vedere a volte perché c'è anche questa guerra un po' a volte viene dato il libro viene dato a un service editoriale si chiamano così è brutto ma che volete farci e questi devono essere pagati per quel lavoro e quindi vogliono far vedere che il lavoro l'hanno fatto bene e quindi magari ti non so ti sostituiscono gocciolante con grondante per dire un esempio qualsiasi moltiplicalo per tutto un testo il tuo testo ti torna indietro e ti sembra massacrato dici ma come traduco così male no è che a volte a volte è giusto cambiare l'aggettivo a volte è inutile a volte suona male a lui ma suona bene a te e lì si finisce a discutere tutto questo in ambito tutto quello che poi va al di fuori della traduzione cioè del testo non è pagato di norma cioè tu vieni pagato quando consegni il testo e quindi tutta questa cosa la fatica della discussione confrontarsi eccetera è una cosa che porta via tempo ad altri lavori perché poi inevitabilmente consuma spazio tempo e anche calorie e quindi non sempre hai la forza e la voglia se vieni pagato 8 euro a cartella figurarsi e ci sono traduttori che lavorano per 8 euro a cartella il mio consiglio è di come dice c'era una grande traduttrice dal russo una slavista Serena Vitale anche bravissima scrittrice che diceva chiedi il massimo e comunque è lo stesso poco cerca di ottenere il massimo ed è comunque poco questo dovete stamparvelo secondo me sopra il letto non sempre avete un grande potere contrattuale perché se sei alla prima traduzione loro dicono tu dici come al mercato al suc tu dici dammi 15 euro a cartella non risponde nemmeno l'editore o lo fai così o niente davvero è come al suc a volte ce l'hai tu il potere a volte no ce l'ha lui questo per dire che tradurre tradurre basta come mestiere è praticamente impossibile a meno che di tradurre tantissimo cosa che faticoso tradurre dalla mattina alla sera soltanto è una roba un po' strana che ti prostra davvero ti down ti atterra quindi di solito i traduttori fanno sempre tanti altri mestieri quindi non è nemmeno un mestiere non solo non si impara ma non è il tuo mestiere principale quindi voi andate a chiedere ci sono i traduttori che segnano l'università tengono laboratori di traduzione in coincidenza con me del tutto casual scrivono libri fanno altre cose fanno i librai scrivono articoli collaborano con i giornali anche là è un settore sempre più impoverito c'è anche questo quindi il traduttore è una cosa è un lavoro fantasma da fare nei ritagli di tempo per una paga mortificante ma è bellissimo poi dopo quando vai a tavola con la gente che bello fai il traduttore che cosa mi è sempre piaciuto questa cosa di girare le frasi e tu stai molto male diciamo si vieni ok facciamo a cambio ora subito io faccio il chirurgo io ho fatto il chirurgo perché mi piace hai ragione anche tu quindi è difficile forse magari facciamo una pausa che dite che facciamo 10 minuti di pausa così non mi faccio bollire non mi faccio bollire non mi faccio bollire non mi faccio bollire si vieni